Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna, da Andrea Raggini, la giornata di oggi è iniziata con nuvolosità diffusa e qualche ultimo rovescio, questa causa della perturbazione che nella giornata di martedì ha interessato la nostra regione e finalmente ha portato un po' di pioggia ma neve solamente oltre 1.400-1.700 metri. La situazione è migliorata però nel corso del pomeriggio, infatti l'alta pressione tornerà gradualmente a interessare la nostra regione e la giornata di domani infatti vedrà cieli però più poco nuvolosi su tutto il nostro territorio anche se non sarà da escludere il ritorno di qualche nebbia sulle pianure dell'Emilia centro-occidentale soprattutto lungo il corso del fiume Po. Per quanto riguarda le temperature saranno in calo nei valori minimi compresi tra meno 1 e più 5 gradi, i valori massimi saranno compresi tra più 7 e più 11 gradi, ventilazione per lo più debole con rinforzi sulla costa il mare sarà poco mosso. Poi le giornate di venerdì la vigilia di natale e la giornata stessa di natale vedranno l'alta pressione che porterà cieli per lo più sereni o poco nuvolosi in regione ma attenzione al ritorno delle nebbie. Per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini.